Tu hai un ragazzo che grida nelle manifestazioni la famosa slogan «Dal fiume al mare la Palestina sarà libera». Cosa diresti? Spero anch'io in una Palestina libera dal fiume al mare, ma non sarà certo Hamas a dare la libertà ai palestinesi e a dare il diritto alla vita agli ebrei. Anche se la posizione di Hamas adesso fanno i fubi, da quando hanno un certo consenso internazionale hanno cominciato a dire «Ma noi distinguiamo gli ebrei dai sionisti». È una distinzione scivolosa.